Ciao a tutte ragazze, sono Marika e benvenute nel mio canale! Oggi farò l'emoji challenge! Viglierò 5 emoji che mi rappresentano. Iniziamo subito! La prima emoji che mi rappresenta è quella lì con il fiore rosa tipo margherita. Allora, mi rappresenta perché dato che quest'ultimo è un fiore rosa e dato che a me piace un sacchissimo rosa, il mio colore preferito, credo perché per questo mi rappresenti. La seconda emoji che mi rappresenta è quella lì con il panda. Mi rappresenta perché io sono talmente tenera, talmente tenera. Sì, sono tenera, grazie, anche molto modesta. La terza emoji che mi rappresenta è quella lì con la bambina con i codini e mi rappresenta perché io mi faccio sempre i codini. A parte nei video, mi faccio sempre sempre i codini. La quarta emoji che mi rappresenta è quella lì con la corona. Mi rappresenta perché questo è il mio sogno, cioè diventare la principessa. Guardate, ho una corona. Quindi, perciò mi piace un sacco. La quinta emoji che mi rappresenta è quella lì con il cavalluccio della giostra. Mi rappresenta perché io, cioè, vado ogni domenica alle giostre e mi piace tanto divertirmi. Allora, ragazze, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale oppure se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su. Un bacione. Al prossimo video!